Sono Massimiliano, sono il padre di Massimo, un ragazzo di 10 a 7 anni, il 23 ottobre del 2014 me l'hanno ucciso. Me l'ha ucciso un signore con il tasso alcolemico tre volte superiore, 1,78 aveva, ad altissima velocità, una strada urbana di 30 km orari c'era. Mi ha fatto fare un volo di oltre 40 metri, l'ha ucciso sul colpo e il ragazzo che era con lui sullo scooter sta ancora soffrendo. Dopo 20 interventi, io questo signore lo conoscevo perché io faccio un lavoro particolare, io sono comandante di stazione Carabinieri, io questo signore l'avevo già avuto per le mani, due volte gli era stata sospesa la patenia, ben due volte e nonostante questo ancora circolava. Adesso lui è a 400 metri da casa mia, libero, anzi, mi hanno detto che se ne sta andando in comunità perché adesso si vuole redimere la classica mossa che fanno gli avvocati per farli scontare di me. Grazie.